Ciao, straniero. Ciao, mamma. A volte penso che non parliamo noi due. Parliamo in che senso? Sì, parlare, come fanno le persone. In realtà, io voglio andarmene. Non puoi solo prendere e andartene dopo 29 anni. Devi tentare! E ho tentato per 29 anni. Se la tua vita ti fa così male da volerla fermare, non te lo impedirei. Questo non c'entra con me, è un problema tuo! Perdonatemi se avrò bisogno che siate forti per sempre. Perdonatemi se ho paura della vostra infelicità. Se voi soffrite, io soffrirò. Se voi resistete, io resisterò. Un'ultima volta. E avrei di più se ora lui morisse? Sì. Quindi per me sarebbe meglio se lui fosse morto. Sì. Sì.